Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Due bande di ladri specializzati in furti nelle case, alberghi e supermercati sono state sgominate dalla polizia di Fano Arrestato a Catabrighe dalla polizia un pluri pregiudicato per detenzione e spaccio di stupefacenti Parte sotto la pioggia la stagione balneare 2020, clienti in spiaggia per prenotare l'ombrellone Osicon Fartigianato contesta i lavori sul ponte Metauro all'inizio della stagione turistica dopo i sacrifici anche i disagi provocati da chi è insensibile verso il mondo delle imprese Di gestore interviene anche il Movimento 5 Stelle Fano dopo il consiglio comunale Bollando come deludenti le risposte del sindaco Seri A Mondolfo diversi i cantieri di opere pubbliche ripartiti tra cui quelli per le piste ciclabili Spiagge sicure a Fano Entra in azione una nuova moto d'acqua per il soccorso in mare Buonasera cari spettatori Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli la cronaca in primo piano Due bande di ladri specializzate in furti nelle case, alberghi e supermercati sono state sgominate dalla polizia di Fano Operazioni distinte portate a termine dagli agenti del commissariato coordinati dal dirigente Stefano Seretti Sentiamo i particolari nel servizio La polizia di Fano ha portato a termine altre due importanti operazioni Gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno sgominato due bande distinte tra loro La prima, composta da padre, madre, figlia e figlio minorenne era solita colpire nel centro Italia ed era specializzata in furti, nelle case e nelle attività ricettive come alberghi e bed and breakfast Nei mesi scorsi avevano messo a segno un colpo in un hotel del centro storico di Fano mentre i genitori facevano da palo i due giovani, forzando la porta di una dependanza si erano introdotti in due alloggi in cui pernottavano turisti Avevano rubato in totale 1.500 euro in contanti orologi e monili in oro più due valigie di marca del valore di 5.000 euro La famiglia croata, residente nel Lazio è stata individuata dalla polizia anche grazie alle telecamere installate dal comune è stata affermata in provincia di Frosinone L'accusa per i quattro è di furto aggravato in concorso La ragazza, di 20 anni, ora si trova agli arresti domiciliari mentre i tre familiari sono stati denunciati a piede libero La seconda banda, invece, composta da due uomini di 45-50 anni già noti alle forze dell'ordine era specializzata in furti nei supermercati A Fano erano entrati in azione a fine 2019 alla Coppe di Via Pertini e alla Conad di Sant'Orso Nel primo esercizio avevano rubato liquori, spumanti, champagne e superalcolici per un valore di 800 euro mentre nel secondo un prosciutto 10 pezzi di parmigiano, altri formaggi olio extravergine d'oliva e vari alimenti per un totale di 500 euro Il modus operandi, invece, era sempre lo stesso Toglievano le etichette antitaccheggio le nascondevano tra gli scaffali e mettevano la merce in un carrello Poi, mentre un complice distraeva la cassiera l'altro riusciva a uscire indisturbato quando i dipendenti se ne accorgevano era ormai troppo tardi Anche in questo caso per la polizia di Fano sono state fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza i due, uno bosniaco e l'altro algerino sono stati rintracciati nel riminese e denunciati a piede libero Ancora cronaca un 52enne residente a Pesaro pregiudicato, nulla facente più volte arrestato per reati inerenti agli stupefacenti è stato nuovamente arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dagli uomini della Questura nei pressi di Cattabrighe mentre si trovava all'interno della sua autovettura di rientro dalla Romagna dove era solito recarsi con frequenza per approvvigionarsi di stupefacenti gli agenti erano sulle sue tracce a seguito dei controlli fatti nel parco Miralfiore per il contrasto del fenomeno dello spaccio e stavano da tempo seguendo i suoi spostamenti i controlli sulla sua autovettura hanno consentito il ritrovamento ed il sequestro di quattro involucri contenenti eroina del peso di 21 grammi circa nascosti dall'uomo nel vano del tappo della benzina dell'auto dalla sua abitazione poi gli agenti hanno rinvenuto un secondo involucro con un grammo e mezzo di stupefacente un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi nei suoi confronti nella giornata di ieri il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto ed emesso per l'uomo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pesaro i vigili del fuoco in azione a Cagli dove sono intervenuti in tarda serata di ieri intorno alle 20.30 per spegnere della paglia incendiata sopra il rimorchio di un autocarro in una piazzola di sosta nei pressi del passo di Monterolo vicino Pergola il conducente del mezzo come si vede dal video ha provato più volte girando in tondo di far cadere la paglia incendiata dall'automezzo i vigili del fuoco hanno provveduto però tempestivamente a spegnere l'incendio garantendo la massima sicurezza della viabilità nella zona ferma durante tutto l'intervento Bene, cambiamo tono e notizia ha preso il via oggi la stagione balneare 2020 tra tutte le incertezze e le incognite che l'hanno preceduta ma nonostante questo il maltempo gli ha riservato un avvio bagnato allora speriamo che questo avvio bagnato come si dice sia un avvio fortunato e insomma vediamo tutti i particolari nel servizio di Simora Zonghetti con le immagini di Filippo Pucci Partenza bagnata partenza fortunata speriamo che sia così almeno per il fine settimana intanto però c'è stata delusione oggi per gli amanti della spiaggia che attendevano da tempo questa giornata per tornare al mare inizia invece sotto alla pioggia la stagione balneare 2020 è venuto comunque per notare l'ombrellone per notare perché tanto è l'inizio dell'inizio della stagione noi siamo clienti affezionati dello stabilimento quindi oggi è il giorno delle prenotazioni per la stagione e sono venuto e si ricomincia siete comunque tranquilli per quanto riguarda tutte le norme che sono state garantite sì sono andato prima a vedere la disposizione degli ombrelloni rispetto a quello che prevede la normativa per quest'anno quindi dovrebbe andarsi bene ecco oltre alla normativa quello che si spera è nel senso di responsabilità delle persone oggi purtroppo si rinuncia alla tintarella però non è voluto mancare a questa ripartenza purtroppo qui sono dei miei amici sono primo giorno di apertura sono venuti a trovarli per fare colazione ecco un saluto quindi comunque il mare non se l'è perso ma io il mare non me lo perdo mai sono andato al mare quindi lo guardo anche d'inverno quindi dal primo all'ultimo giorno lei è qua quasi tutti i giorni vengo quasi tutti i giorni perché vengo noi non ammo la tintarella però vengo a trovarli e vengo a pranzo vengo a fare colazione non sono tanto da mare perché sono sempre sul campo da tennis sempre sotto il sole oggi non si gioca oggi non si lavora i bagnini intanto sono pronti ad accogliere fanesi e turisti dopo la corsa contro il tempo per mettere a punto le regole anti-covid avete lavorato tanto forse speravate un po' di sole assolutamente sì ci speravamo un pochino tutti anche perché abbiamo pedalato tanto in due settimane di lavoro abbiamo ricostruito la spiaggia quindi ci speravamo un pochino tutti nel bel tempo ho visto anche questa mattina diversi clienti sono venuti a prenotare l'ombrellone quindi un po' di movimento c'è comunque ma assolutamente sì dai dopo due mesi di quarantena la gente dai i fanesi fremono per venire al mare e per fortuna abbiamo la spiaggia viva dai nonostante il maltempo abbiamo diverse persone anche stamattina che ci sono venute a trovare a vedere dove abbiamo posizionato gli ombrelloni quest'anno ombrelloni chiusi e ben distanziati quanti ne avete persi? ne abbiamo persi tanti oltre 200 dopo i conti precisi li rivedremo però li abbiamo persi tanti i distanziamenti comunque ci sono fatti sentire abbiamo cercato di ripristinare la spiaggia nel migliore dei modi per la salvaguardia della salute dei nostri clienti e come vedete comunque l'aspetto è completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso a questo punto visto che è già partita in ritardo a causa del virus si spera che il prosiegue della stagione sia interamente baciato dal sole ma sì speriamo che almeno il tempo ci aiuti bene proprio mentre la stagione balneare prende il suo via iniziano i lavori anche sul ponte Metauro causando diversi disagi alla viabilità e a contestare questa decisione l'organizzazione Oasi Confartigianato che non risparmia critiche al comune per non aver concesso ai bagnini una parte della spiaggia libera per guadagnare gli ombrelloni persi Ancora problemi per gli operatori balneari che hanno iniziato con tante difficoltà la nuova stagione dopo i dubbi sull'enorme anticontagio poi risolte a pochi giorni dalla ripartenza ora l'incognita riguarda le spiagge libere a quanto pare però il comune di Fano avrebbe negato a chi ne aveva fatto richiesta alcuni metri di arenile l'obiettivo era quello di recuperare gli ombrelloni persi a causa delle distanze imposte per fronteggiare l'emergenza a intervenire oggi in difesa della categoria è il responsabile di oasi confartigianato Andrea Giuliani siamo molto dispiaciuti di questa cosa perché la regione ha permesso ai comuni costieri delle Marche di concedere solo per tre mesi dodici miseri metri lineari di spiaggia libera per permettere ai balneari di recuperare una buona parte degli ombrelloni dei lettini persi per via dell'aumento delle distanze tra le attrazzature e non soltanto di recuperare quindi le attrazzature ma di conseguenza di mantenere i livelli occupazionali e tutti sanno che in questo momento di grave emergenza sociale quanto sia importante garantire lavoro alle persone e in particolare ai giovani c'è anche un altro dettaglio che contestare sì ma la cosa ridicola è questa che addirittura hanno fatto un abaco nel senso che fino a 60 metri lineari di fronte mare danno tutti i 12 metri lineari di spiaggia libera per questi tre mesi da 60 a 100 metri addirittura i 12 metri diventano 6 e quindi il gioco non vale nemmeno più la candela perché devono pagare il canone dei magnali ricognitori devono pagare l'Atari devono pagare un geometra per fare il modello di uno il contratto eccetera e quindi alla fine quei 6 metri lineari cosa ci fanno non ci fanno nulla poi sopra i 100 metri non è andata per niente quindi già noi abbiamo avuto 7 dinieghi e quindi è inutile che la regione prevede le cose quando poi l'amministrazione comunale in ispregio di quello che decide la regione poi non concede questa importantissima opportunità alle nostre imprese balneari Giuliani inoltre contesta l'avvio dei lavori sul ponte Metauro lungo la statale Adriatica proprio nel giorno in cui inizia la stagione turistico balneare i tecnici di Anas infatti questa mattina hanno cominciato a predisporre le operazioni necessarie al monitoraggio sulle condizioni del ponte l'intervento comporterà inevitabili disagi alla circolazione per due o tre settimane verrà istituito un senso unico alternato per i veicoli con il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore a 19 tonnellate una cosa questa veramente vergognosa io l'ho saputo ieri andando così su facebook l'amministrazione comunale ci ha informato di questa cosa sono anni che noi diciamo all'Anas di programmare gli interventi non nella stagione estiva ma negli altri mesi negli altri mesi dell'anno mentre invece loro in perteriti ogni anno fanno le manutenzioni nei punti nevralgici e strategici dei grandi assi viari che portano le persone al mare e quindi portano le persone verso le strutture turistico balneari fanesi negli anni scorsi nella superstrada quest'anno al ponte Metauro noi per tre settimane avremo il senso unico alternato al ponte Metauro con tutti i disagi poi che ne conseguono apriamo oggi la stagione balneare anche se il tempo è quello che è abbiamo fatto un sacco di sacrifici siamo pieni di ansie e preoccupazioni che sono causate da questo maledetto virus speravamo di poter partire col piede giusto invece abbiamo una marea di problemi che viene creata da chi è insensibile verso il mondo delle imprese e verso le imprese che rappresentiamo bene andiamo a Pesaro dove il consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la mozione depositata dal gruppo consigliare di centrodestra cambiamo pagina con cui si impegna il presidente Giuseppe Paolini ad attivarsi con il governo e in ogni altra sede istituzionale competente affinché anche la provincia pesarese ad oggi esclusa venga contemplata e ricompresa nella ripartizione del fondo di 200 milioni di euro destinati ai territori più colpiti dalla pandemia lavori pubblici avete sentito anche negli giorni scorsi con i nostri servizi diversi cantieri sono ripartiti ebbene è avvenuto anche nel comune di Mondolfo e nella frazione di Marotta dove tante sono le opere che si stanno facendo proprio per le piste ciclabili sentiamo nel comune di Mondolfo una serie di cantieri di lavori pubblici si sono rimessi in moto nella fase 2 importanti opere strutturali e di riqualificazione urbana sono in via di completamento sul lungomare si sta realizzando la frazione della ciclabile Fano Marotta Senigallia all'interno dell'ambizioso progetto della ciclovia adriatica grazie alla quale le due province quella di Pesaro e quella di Ancona verranno unite in nome della mobilità sostenibile inoltre per un importo lavori di 428 mila euro di cui 128 milo di provenienza comunale all'insegna della mobilità sostenibile anche un altro cantiere quello per la realizzazione della ciclabile che collegherà il popoloso quartiere di Piano Marina a Marotta Centro un tratto quasi di un chilometro che si innesta su un altro troncone consentendo così a ciclisti e pedoni di usufruire di un unico tracciato che li porterà nel cuore di Viale Europa due interventi molto importanti che vanno nella direzione della mobilità sostenibile vogliamo arrivare pronti per la stagione estiva nonostante il momento difficile sono interventi che erano richiesti da tempo per quanto riguarda il lungomare di Marotta Nord adesso sono in corso degli interventi di asfaltatura del lungomare abbiamo realizzato la pavimentazione la nuova pavimentazione della ciclabile e poi sistemeremo i muretti abbiamo posizionato nuove alberature faremo poi la segnaletica orizzontale e verticale quindi davvero tanti interventi nelle prossime settimane adesso siamo in costante contatto con gli operatori turistici balneari i titolari di bar e ristoranti per fare in modo che vengano rispettate tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza sanitaria e sperando poi che ci siano delle aperture negli spostamenti tra regioni bene con la ripresa riprendono anche i servizi tra i quali quello di ASET che attiverà un nuovo numero verde dedicato a segnalazioni e rifiuti ingombranti sentiamo le dichiarazioni del presidente allora si inserisce nei numeri verdi che già noi abbiamo attivato uno per quanto riguarda il verde pubblico uno per quando riguarda l'emergenza e uno per l'idrico quest'altro sarà uno che riguarda esclusivamente l'igiene ambientale e è il 800997474 sarà attivato il primo giugno funzionerà tutti i giorni esattamente dalle 8 del mattino alle 20 ininterrottamente quindi anche durante la pausa pranzo senza nessun problema da lunedì al venerdì mentre il sabato dalle 8 alle 13 che tipo di servizi? i servizi sono quelli che riguardano intanto gli ingombranti la prenotazione ingombranti quindi non si dovrà più fare riferimento al vecchio numero nelle prenotazioni online ma le prenotazioni verranno tutte gestite telefonicamente non ci saranno tempi d'attesa servirà appunto per gli ingombranti servirà per segnalare delle situazioni di abbandono e servirà anche per segnalare dei disservizi sicuramente non verrà utilizzato dei disservizi perché noi non ne creiamo però ad esempio se qualche volta si dimentica ad esempio di ritirare qualche genere di rifiuto come l'umido o quant'altro si telefona e si segnala riteniamo che questa modalità del numero verde sia molto più veloce di tutto quello che ha a che fare ad esempio con i social perché ci permette di intervenire prima quindi lo facciamo anche per ottimizzare i tempi di risposta nei confronti dei cittadini poi serve anche per tutti i generi di informazioni che riguardano l'igiene urbana e in più per quanto riguarda Fano e Pergola dalle 8 del mattino alle 14.30 di ogni giorno di cessione del sabato e della domenica si hanno anche le informazioni che riguardano le tariffe e i piani tariffari e le informazioni sulle bollette bene con l'estate arrivano anche come si suol dire le note dolenti legate proprio all'estate una di queste bene è proprio la zanzara tigre a Pesaro è stata presentata la campagna per la disinfestazione riparte a Pesaro la campagna di prevenzione e protezione contro la zanzara tigre promossa da farmacie comunali a spese comune un gioco di squadra efficace che si basa su un'azione di prevenzione e contrasto in vista dell'arrivo dell'estate e di conseguenza delle alte temperature che favoriscono il proliferare del fastidioso insetto caratterizzato da un'elevata aggressività nei confronti dell'uomo è importante che tutti i cittadini ci aiutino in questo e quindi cerchino di contenere e di evitare il più possibile i ristagni di acqua nei propri terrazzi e nei propri giardini perché solo cercando di evitare e di rendere più difficile la schiusa delle uova allora così solo così potremo cercare di contenere questo fenomeno fastidioso per tutta la cittadinanza sul fronte della prevenzione gli addetti incaricati da Aspes provvederanno ad iniettare nelle oltre 18.000 caditoie pubbliche un prodotto larvicida che non agisce per via chimica ma fisica che una volta applicato forma una sorta di pellicolo che uccide le larve per asfissia il ciclo preventivo prevede dagli 8 ai 10 passaggi tra maggio e ottobre e saranno applicati anche in altre aree il prodotto che useremo è un prodotto naturale che come dicevo impedisce la schiusa a questo aggiungiamo che faremo anche azioni adulticide mirate in alcuni parchi cittadini quelli più frequentati quelli dove ci saranno insomma i bambini piuttosto che adulti durante il corso dell'estate in occasioni particolari aggiungiamo anche che Aspes gestendo le farmacie le nuove farmacie comunali di Pesero e la farmacia comunale di Gabice sta facendo un'operazione di scontistica legata ai prodotti repellenti per la zanzare anche quest'anno faremo il 20% di sconto ai cittadini che ne vorranno usufruire sulla vendita di spray repellenti per anti-zanzara la zanzara tigre è un fenomeno endemico che non si debellera più ma che con l'aiuto di tutti possiamo combattere allevandone di molto gli effetti serve l'aiuto di tutti servono le buone prassi quindi evitare tutto quello che permette di proliferare delle zanzare e vedremo che insieme potremo riuscire a fermare questo fenomeno che purtroppo esiste e che è molto fastidioso bene il servizio era di Francesco Salvago da Pesaro e per la gioia di agonisti e frequentatori ancora pochi giorni e poi la piscina della Sassonia sarà fruibile ovviamente nel rispetto di tutte le normative e dei regolarmenti vigenti sentiamo i particolari di questa ripresa anche dell'attività natatoria con il decreto 158 del 20 maggio 2020 la regione Marche prevede che l'attività svolta presso le palestre e piscine è consentita a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento e nel rispetto anche delle specifiche linee guida del settore la società Fano Fortuna che gestisce la piscina comunale Dini Salvalai si sta organizzando per riprendere da dove purtroppo il lockdown ha forzatamente interrotto corsi attività agonistica e attività legate alla disabilità un mondo fatto di atleti sportivi appassionati e famiglie che sono rimaste è proprio il caso di dirlo all'asciutto ma ora la società e le sue maestranze si stanno adoperando per rendere operativo l'impatto natatorio della Sassonia spostando così tutte le attività nella sede estiva vorremmo completare alcune strutture nuove che negli scorsi anni non c'erano non erano previste quest'anno per il distanziamento e la tutela dell'utente dovremmo fare dovremmo completare partiamo con molte incertezze con molta paura avremo una riduzione certa viste le direttive del 30% di ricavi e abbiamo gli stessi costi dell'anno scorso più quelli dovuti alla gestione del coronavirus e alla prevenzione di tutto questo abbiamo chiesto aiuto anche alla Proloc che ci presterà di quelle casette che danno anche per Natale per fare i mercatini e con quello faremo due punti di segreteria quindi due appunti di accesso poi comunque ci sono tutti i nostri recapiti sui nostri social quindi Facebook Instagram il nostro sito e sarebbe opportuno per non dire necessario che l'utenza si strutturasse in quel modo ovvero non venisse di persona a chiedere informazioni o a fare la prenotazione del corso ma lo facesse attraverso altri canali che sono quelli digitali per chi non può che è in spiaggia o un turista o è solo di passaggio ovviamente noi come sempre lo accoglieremo in segreteria faremo un triage con il rilevamento della temperatura dopodiché potrà accedere alla conversazione con le nostre segretarie e faremo tutto quello che si può fare il nuoto libero sarà garantito tutta la giornata d'accordo anzi abbiamo allungato i tempi di apertura pensiamo di aprire dalle 7 del mattino fino alle 8 di sera sabato e domenica compreso in questa vasca da 25 metri per 2 di ogni corsia posso mettere se hanno più di 7 anni 7 persone se hanno meno di 7 anni 5 persone la prenotazione è importante per capire quanto è metterne per non creare disagio non avremo gli spogliatoi perché purtroppo non abbiamo la metratura quindi utilizzeremo soltanto i bagni che verranno sanificati in continuo come le sdraie come gli ombrelloni e tutti gli attrezzi abbiamo pochi incassi però abbiamo un pregresso già pagato che dovremmo in qualche modo riconoscere chi ha già pagato viene e lo incastriamo in un corso nuoto in partenza chi non volesse questo cercheremo di onorare restituendo un pagato che non abbiamo potuto come dire portare a compimento oppure possiamo dare un voucher da consumare nei prossimi 18 mesi come peraltro prevede la normativa non vogliamo scontentare nessuno anzi ci faremo carico in qualche modo di soddisfare tutte le esigenze bene con l'apertura della stagione balneare naturalmente c'è un altro tema molto caro a tutti i frequentatori delle spiagge sia libere che in concessione ovvero sia la sicurezza ebbene la sicurezza in mare i bagnini e gli addetti al salvamento avranno un nuovo supporto a partire proprio da questa stagione sentiamo di che cosa si tratta la città di Fano avrà un servizio in più di sicurezza quest'anno si tratta della nuova acqua bike moto d'acqua dotata di barella e di ossigeno medicale utile per il salvataggio primo soccorso ed interventi rapidi nell'emergenza in mare il motomezzo sarà fornito dai prossimi giorni e per tutta l'estate da mare dentro organizzazione di volontariato questa moto d'acqua sarà comunque condotta da conduttori e soccorritori addestrati e certificati e per che cosa perché come sapete benissimo nell'emergenza la cosa più importante e fondamentale è la tempestività di intervento la moto d'acqua partendo essendo operativi dalla marina dei Cesare raggiungendo i confini a sud e a nord ci mettiamo circa 5 minuti dai 4 ai 5 minuti il servizio sarà dedicato a tutta la litorale fanese la moto d'acqua acquistata anche grazie a un finanziamento del banco marchigiano quando non sarà in azione stazionerà all'interno del porto marina dei Cesari che è partner dell'iniziativa ospitando il mezzo sulla piattaforma galleggiante ormeggiata nel pontile G Maredentro fa sapere che effettuerà durante il weekend anche servizio di pattugliamento e sorveglianza lungo la costa fanese dalla foce del metauro a Fosso 6 ore in caso di emergenza si potrà chiedere l'intervento della squadra di volontari il numero di intervento o andate sulla pagina Facebook oppure potete chiamare il 333 600 8050 nel caso di operatività noi saremo anche collegati con Guardia Costiera col VHF sul canale 16 quello delle emergenze in mare bene e si sono rimesse in moto non solo le attività commerciali e i luoghi della movida e dell'intrattenimento anche tutto l'apparato sociale e di volontariato tra queste iniziative ci sono anche quelle del gruppo Puliamo Fano dopo qualche mese di sospensione dell'attività domani il gruppo si incontrerà alle 8.30 a Fosso 6 ore per incaminarsi in direzione sud lungo la spiaggia durante il tragitto uno dei volontari distribuirà sacchetti per la raccolta dei rifiuti sarà necessario evitare naturalmente assembramenti anche in questo caso ricordano gli organizzatori dovremo rimanere a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e indossare guanti e mascherina e vi ricordiamo proprio a riguardo di queste misure di sicurezza che dobbiamo adottare che dalle 18 di oggi è entrata in vigore l'ordinanza del comune di Fano sull'obbligo di indossare le mascherine naso e bocca a coprire nelle zone di maggior afflusso ricettivo ovvero la zona compresa tra la battigia e la linea ferroviaria quindi tutta la Sassonia tutto il Lido e anche tutto il centro storico sono esonerati dall'indossarla i minori di età inferiore ai 6 anni persone con disabilità non compatibile con un uso continuato della mascherina e per le attività sportive e motorie però diverse dalla comune passeggiata la disposizione sarà valida fino alle ore 2 del 3 giugno del 2020 sono incaricati di vigilare e di valutarne il rispetto di questa ordinanza la polizia locale e le altre forze di polizia e per Primo Cittadino lunedì sera sarà ospite qui Maurizio Mangialardi il sindaco uscente di Senigallia sarà nei nostri studi appunto per una nuova puntata di Primo Cittadino naturalmente a vostra disposizione come sempre i nostri numeri di telefono sia per quanto riguarda la telefonia mobile sia per quanto riguarda la linea fissa naturalmente domande e quesiti al sindaco li potrete rivolgere anche tramite un messaggio o un sms oppure utilizzando whatsapp bene siamo arrivati in fondo a questa edizione del telegiornale noi vi vogliamo lasciare con delle immagini emozionanti sono quelle della pattuglia acrobatica la PAN che in questi giorni sta sorvolando i cieli d'Italia per naturalmente le celebrazioni in occasione del 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica particolarmente significativo qui nelle Marche il sorvolo con la scia tricolore della basilica della Santa Casa di Loreto nell'anno giubilare proclamato proprio da Papa Francesco in visita in vista del centenario dell'elevazione della Madonna di Loreto a patrona di tutti gli aeronauti bene godiamoci queste immagini e insomma di orgoglio nazionale grazie e arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti